ciao a tutti oggi rispondo a una delle domande che mi avete fatto più spesso e cioè quanto deve durare il no contact per rispondere a questa domanda però c'è bisogno di fare un passettino indietro intanto che cos'è il no contact il no contact è un distanziamento una distanza che io prendo in maniera più o meno drastica dalla persona verso cui ho questa interazione tossica oppure da una situazione che mi sta facendo male o da un assetto emotivo che mi sta facendo del male perché sto prendendo questa distanza perché ho bisogno di disintossicarmi di riorganizzare il mio assetto emotivo e di sistemare un pochettino la mia identità in modo da ritornare a valutare quella relazione in maniera più lucida per riuscire a capire quindi quanto deve durare il no contact io ho bisogno di spiegarvi anche altre tipologie di no contact è vero il no contact può essere di tipo temporale quindi è suddiviso in fasce temporali e poi andremo a vedere quali sono queste fasce temporali può essere un no contact di tipo fisico oppure psicologico emotivo e un no contact che ha a che fare con il locus ovvero il luogo virtuale da cui viene attuato che potrebbe essere o dall'interno della relazione oppure all'esterno della relazione quindi abbiamo detto tre ambiti temporale psicofisico e dall'interno dall'esterno della relazione ovviamente il no contact in realtà va questi diversi di queste diverse tipologie di no contact vanno a sovrapporsi all'interno della relazione e quindi non ci sarà mai un no contact puro un no contact definitivo ci sarà un no contact fatto con strategia anche perché dagli altri video che avrete visto miei sul no contact avete capito che il no non è una cosa semplice da mettere in atto perché è come togliere la droga ad un dipendente ad un tossico dipendente ovviamente deve essere sostituito con qualcosa che possa colmare questo vuoto narcisistico questo vuoto che viene dato dalla dalla sostanza dalla droga in questo caso dalla persona e deve essere fatto in maniera estremamente strategica ora quanto e perché deve durare il no contact da un punto di vista temporale possiamo dire che il no contact ha tre fasce temporali fondamentali quella famosa dello scoglio delle 72 ore ovvero dei tre giorni quella che ha a che fare con le quattro settimane in realtà sarebbero tre quattro settimane in alcuni casi potrebbero essere anche cinque settimane perché serve per ricostruire ristrutturare le abitudini e quindi il nostro cervello ci impiega circa quattro settimane per ripristinare un'abitudine o per cambiare un'abitudine e poi c'è il no contact quello definitivo quello in cui si cerca di disintossicarsi definitivamente dal narcisista e di riorganizzare letteralmente la propria vita quello dovrebbe durare dalle quattro settimane in su ovviamente all'interno di queste fasce temporali esiste sia il no contact fisico che quello emotivo e psicologico che anche quello che ha a che fare dall'interno dall'esterno della relazione vi faccio un esempio il no contact che deve durare circa tre giorni solitamente viene messo in atto perché c'è stata una discussione c'è stato un litigio per una qualsiasi ragione c'è stato uno screzio c'è stato un attrito oppure è successo qualcosa che ha fatto vacillare la relazione gli animi sono abbastanza accesi in quel caso c'è la rabbia c'è la tristezza c'è la paura e quando noi siamo succubi di queste emozioni così forti non è sempre il miglior momento per continuare un confronto e riuscire a placare gli animi a discutere in maniera lucida è l'unica soluzione per raggiungere la soluzione a quel determinato confronto allora in questo caso si consiglia di prendersi una piccola pausa di qualche giorno che può essere fatta dall'interno della relazione all'esterno della relazione nel caso in cui ad esempio non si conviva con quella persona oppure nel caso in cui sia un amico o un'amica o la madre il padre i fratelli quindi ci sono diversi motivi per cui si ci può essere questo no contact di 72 ore e può essere sia fisico che emotivo quindi fisicamente io non vedo la persona e non essendo in relazione con quella persona posso uscire dalla relazione dal punto di vista psicologico perché mi devo imporre di riuscire a durare abbastanza tempo quindi almeno tre giorni in modo da sentire che le emozioni così forti che si sono innescate durante quel confronto acceso quel litigio acceso in realtà si siano un pochettino placate quindi il no contact il primo tendenzialmente non è quello delle relazioni tossiche anche se un buon consiglio è quello di immediatamente quando ci sono dei confronti troppo accesi cercare di prendere un pochettino le distanze per riuscire a capire con chi abbiamo a che fare soprattutto se nella prima fase della relazione oppure per semplicemente ripeto placare gli animi e quindi placare un pochettino le emozioni se dobbiamo parlare con qualcuno ad esempio il nostro capo un amico o un fidanzato una moglie o marito quello che o il figlio ad esempio soprattutto i figli adolescenti prenderci un pochettino di tempo per riuscire a ritornare lucidi e quindi avere un confronto un po' più costruttivo nelle relazioni tossiche è abbastanza frequente che anche dopo le 72 ore comunque non ci sarà un confronto costruttivo e molto spesso si torni ad avere le stesse emozioni di disagio molto forte che si hanno la prima volta che ci si confronta su quel particolare argomento la seconda tipologia di no contact ha una fascia temporale che riguarda le quattro settimane o i 21 giorni cioè sarebbero tre settimane in realtà io aggiungerei che potrebbero arrivare anche a cinque settimane perché i nostri cervelli non funzionano tutti nella stessa maniera e siccome questo no contact ha a che fare con un cambiamento delle abitudini tendenzialmente per cambiare un'abitudine ci si impiega circa quattro settimane più o meno quindi ovviamente finché non sentite che la nuova abitudine è qualcosa che state dominando abbastanza bene vuol dire che il tempo non è ancora sufficiente quindi dalle quattro settimane io oserei dire in su preferibilmente per riuscire a capire che quella determinata abitudine è diventata una vostra vera abitudine in quali casi è utile questo no contact di circa quattro settimane questa è la tipica pausa di riflessione molto spesso è utilizzata in coppie che arrivano a una fase di stallo una fase di impasse e hanno bisogno di capire effettivamente che cosa ci stanno a fare insieme quindi c'è bisogno di ricostruire in parte la propria identità e capire se l'altra persona ci manca effettivamente o se riusciamo perfettamente a vivere senza l'altra persona ovviamente tutti i no contact e questo lo sottolineerò sempre sono utili se vengono sfruttati quindi far prendersi la pausa di riflessione ma poi continuare a mandare le foto del gatto mandare le canzoncine a controllare sui social che cosa sta facendo l'altro o l'altra a provare a chiamarlo fare gli squilli di una volta si facevano gli squillini non è utile soprattutto non è un no contact anzi potrebbe essere un no contact fisico ma di fatto non è un no contact emotivo quindi se avete bisogno di recuperare un po i vostri pensieri per capire che cosa ci state a fare con quella persona prima di una grossa decisione una decisione molto importante è necessario sfruttare il più possibile quel tempo per riorganizzare la vostra mente capire per quale motivo vi siete presi quella pausa e cercare di capire se effettivamente dopo aver cambiato la vostra abitudine quindi non aver più l'abitudine di vedere quella persona quando si dice ci si sta insieme un po per abitudine capire se quella persona effettivamente manca dalla vostra vita oppure riuscite comunque a condurre una vita abbastanza completa anche se quel anche senza quella persona quindi dicevamo riassumiamo 72 ore per una discussione 3 4 5 settimane quindi dalle 4 settimane circa per quanto riguarda il cambiamento di un'abitudine che può essere un'abitudine ripeto sia fisica che emotiva e psicologica e poi c'è il no contact definitivo cioè quello che ha a che fare con un distanziamento totale una presa di posizione drastica in questo caso è fatto dal di fuori della relazione mentre gli altri potevano essere a cavallo dal di dentro dal di fuori della relazione potevano essere a cavallo tra un no contact fisico e un no contact psichico mentre per quanto riguarda l'ultimo che è quello che ha a che fare con la disintossicazione da una relazione tossica ha a che fare sia con un distanziamento fisico che un distanziamento psicologico e deve essere fatto rigorosamente dal di fuori della relazione in questo caso è molto più difficile che venga messo in atto solitamente si consiglia di utilizzare gli altri tipi di no contact temporali per pianificare per strutturare la strategia per arrivare al no contact definitivo perché è quello più difficile da mettere in atto è quello che manda in ossessione paranoide sia il narcisista e molte volte anche il codipendente o comunque la vittima la persona a cui verso cui il narcisista o il borderline ha preso non ha dato le proprie attenzioni ed è il no contact finale cioè quello che dovrebbe durare dalle quattro settimane in su quindi minimo quattro settimane preferibilmente per il resto della vostra vita soprattutto se avete avuto a che fare con una persona tossica e siete stati in una relazione tossica questo no contact molto difficile diventa potrebbe essere forzato all'inizio ma se ci arrivate in maniera abbastanza strategica diventa anche più semplice diciamo così e quando è definitivo quindi quando voi siete distanziati sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista fisico a quel punto non è più forzato a quel punto si può parlare di no contact ma in realtà è un no contact naturalizzato quindi vi viene spontaneo l'abitudine è già quella di non sentire più questa persona di non interagire più con questa persona e a quel punto avreste già dovuto inserire quindi avreste già inserire già dovuto inserire tutti quegli elementi che vanno a nutrire la vostra identità dagli hobby all'amicizia quindi la rete sociale a un nuovo modo di vivere che non coinvolga più l'interazione con quella determinata persona quindi abbiamo detto ripetiamolo un'ultima volta ci sono diversi tipi di no contact hanno una fascia temporale definita dalle 72 ore per quanto riguarda varie discussioni quindi un riequilibrio emotivo il secondo no contact con una fascia temporale di circa quattro settimane per cambiare un'abitudine e l'ultima tipologia di no contact che è quella che riguarda il luogo virtuale da cui viene attuato dall'interno della relazione oppure all'esterno della relazione io spero di essere stata abbastanza chiara ovviamente se avete altre domande relative al no contact scrivete qua sotto nei commenti se volete prenotare una consulenza con me potete scrivere a seguilapapa chiocciola gmail.com io vi saluto vi chiedo di iscrivervi al mio canale youtube emanuela papa e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao